e iniziamo subito con Federico Valentini e Francesco Iubatti, grazie, benvenuti, un applauso ovviamente, grazie Mario a dopo, grazie, grazie a tutti, ciao ragazzi, voi dovete sistemarvi qui e la vostra presentazione è A Deep Dive into Advanced Android Banking Trojan Campaigns, grazie per l'introduzione, grazie Mario, grazie a Kimbo, grazie a tutti voi che siete qua oggi, è bello ricominciare in presenza. Allora, oggi di cosa parleremo? Diciamo che il titolo è piuttosto autosplicativo, di fatto vi racconteremo un po' di storie, un po' di storie che soprattutto negli ultimi tre anni abbiamo potuto analizzare e studiare, di fatto parleremo un po' di qual è lo stato attuale del mondo delle frodi online in questo momento, parleremo quindi, saremo molto verticali nel contesto bancario finanziario e come vedete dal titolo, di fatto sarà una presentazione verticale per quanto riguarda il mondo mobile e nello specifico Android. Quindi, una piccola presentazione, mi chiamo Federico Valentini e in questo momento dirigo il team di Threat Intelligence e Incident Response di Clifai. Io, diciamo che ho iniziato la mia carriera nel mondo della consulenza, per cui io mi occupavo principalmente di penetration test, WAPT, e tre anni fa sono appunto entrato in Clifai con l'idea appunto di creare questo team dedicato a temi di Threat Intelligence e Incident Response molto specifici nell'ambito bancario. Lascio la parola. Ciao a tutti, sono Francesco Iubatti, anch'io ho un background simile a quello di Federico, mi sono occupato in passato principalmente di attività di WA e PT, molto verticale sul mondo mobile e su embedded device utilizzati in infrastrutture critiche. Da circa due anni e mezzo lavoro in Clifai, mi occupo anch'io di Threat Intelligence, particolare di analisi malware mobile, e dove nell'ultimo anno ho scoperto queste due nuove famiglie di malware, Sharbot e Thibot, che andremo a vedere più in dettaglio a breve. Grazie Fra. Ora, due parole su Clifai. Che cos'è Clifai? È un'azienda che nasce nel 2014 e di fatto la nostra mission è quella di rendere più sicuri i canali digitali di pagamento, quindi per quanto riguarda ad esempio l'home banking che tutti noi utilizziamo e quant'altro. Ora, partendo subito velocemente, perché questo tool? Perché siamo qui oggi? Di fatto il mondo delle frodi bancarie è in netta crescita, soprattutto negli ultimi anni e dagli sviluppi anche che sono accaduti. È anche difficile di fatto quantificare il volume delle perdite di questi attacchi, esistono delle stime in cui parlano appunto di billions, quindi di miliardi ogni anno. E diciamo che al giorno d'oggi è anche fondamentale, estremamente critico, dal punto di vista bancario, identificare in tempo reale attacchi, pattern di attacco, scenari malevoli e quant'altro. E in alcuni casi risulta essere anche fondamentale prevenire questi attacchi, quindi cercare di anticipare i prossimi step di attacco, in modo che i nostri clienti o comunque i banchi in generale siano pronti a gestire questo problema. Un'altra cosa è che magari per chi è fuori dal mondo... Prova? Ok. Per chi è fuori dal mondo bancario sembra di fatto, a meno, l'impressione da fuori che sia un mondo molto chiuso, che non ci sia troppo sharing di informazioni. E diciamo è una cosa che noi non piace, non vorremmo fare, per cui riteniamo anzi molto interessante, anche in occasioni come oggi, di shareare con la comunità di Infosec quelle che sono di fatto alcune analisi che riteniamo, ecco, importanti portarvele a voi. Quindi iniziamo a partire. Perché, diciamo, come ho detto all'inizio, c'è una forte evoluzione, una forte crescita di questi attacchi, anche del volume. Abbiamo cercato di tirare fuori quelle che sono tre delle principali macro-cause che hanno comportato questo forte aumento. La prima casa è, come aveva anticipato anche prima Mario durante l'introduzione, veniamo da due anni buoni di pandemia, per cui siamo tutti costretti a stare dentro case, per cui immaginate anche voi che magari persone meno avvezze nel utilizzare magari un mobile banking o quant'altro si sono trovate di fatto costrette a doverlo utilizzare. E quindi questo ha comportato che c'è stata una forte accelerazione digitale che è stata portata avanti appunto da banche. Il secondo punto è che in tutto questo ovviamente i canali digitali sono sempre più utilizzati. Pensate anche voi, insomma, quotidianamente immagino che si accede proprio a un banking, si effettuano operazioni, e quindi di fatto il volume sia magari anche di target esistenti o nuovi target è esploso. Il terzo punto che poi è anche fondamentale riguarda proprio la velocità dei pagamenti. Al giorno d'oggi risulta essere di fatto tutto molto più veloce, per cui i pagamenti risultano essere anche istantanei. Pensate agli instant payment che oggi possiamo anche effettuare in maniera piuttosto veloce dalla propria applicazione. E questo ha comportato, almeno lato antifrode, dei nuovi problemi da gestire. Come dicevo prima, quindi il avere sempre meno tempo nel identificare dei pattern di attacco, cercare una remediation e evitare il disastro. Ora proviamo un attimo a focalizzarci sulla parte delle vittime. Quindi, quali sono di fatto le principali tecniche di attacco, visto che anche là fuori comunque esistono n mille varianti. Quello che abbiamo cercato di fare è di fatto creare due macro categorie che un po' andassero a identificare tutte le tipologie di attacco che al giorno d'oggi esistono. La prima categoria parliamo quindi di account takeover. Immagino che sia uno scenario d'attacco piuttosto conosciuto all'interno di quest'aula. Oggi cosa accade? Di fatto una parte non autorizzata riesce ad accedere a un segreto, che possono essere appunto delle credenziali di autenticazione, un cookie o quant'altro, e in maniera non autorizzata effettua un accesso a un account, in questo caso bancario. Qual è l'obiettivo? Ovviamente nel mondo banking è fare cash out, per cui in base poi anche all'applicazione utilizzata esistono n tipi di modalità di cash out. Può essere ad esempio un instant payment, può essere un bonifico SEPA, oppure anche al giorno d'oggi esistono nuove metodologie di cash out, in quanto di fatto esistono anche molti nuovi prodotti finanziari, pensate appunto a un prelievo cardless, una ricarica di una carta prepagata e così via. Tipicamente questi attacchi sono strettamente correlati a anche metodologie di social engineering, per cui anzi diciamo che nascono come social engineering puro, e poi vedremo anche con Francesco andando avanti nella presentazione, vedremo come di fatto anche molti gruppi hanno cercato di mischiare tecniche di social engineering e utilizzo di malware, per portare avanti un attacco di tipo account takeover. L'altra cosa importante è che, come dicevo, essendo una metodologia di attacco che ha bisogno di una forte componente di social engineering, questo richiede tanto lavoro manuale. Lavoro manuale che dal punto di vista dei gruppi di attacco ovviamente permette di non scalare bene. La seconda invece categoria di attacchi, che risulta essere magari un po' molto più verticale rispetto all'account takeover, è l'ATS o Automatic Transfer System. Io qua volevo provare a chiedere anche a voi, quanti di voi conoscono questa sigla, hanno mai sentito parlare di ATS o quant'altro? Vedo uno in fila per la birra che ha sentito parlarne, per cui proviamo a fare un attimo una panoramica. Questo perché sono degli attacchi che sono, come dicevo prima, molto verticali nel mondo bancario, quindi magari meno conosciuti a chi non lavora in quest'ambito. In cosa consistono questi attacchi? Di fatto sono attacchi molto malware-based, a differenza magari degli account takeover, e quindi, come ben sapete, scalano molto meglio poi. Di fatto la metodologia di attacco non consiste altro che, semplificando l'estremo, quindi ho una macchina compromessa, un PC compromesso, all'interno del quale magari la vittima ha un conto, o comunque opera all'interno del proprio conto corpore, può essere un conto retail, e il malware non è nient'altro che, proprio nello specifico, un pezzettino di JavaScript. Tipicamente questi banking malware che operano in questo modo utilizzano tecniche di man in the browser. Quindi tipicamente quello che vanno a fare, vanno a ingettarsi all'interno di una sessione di navigazione autentica, quindi di fatto è la vittima che sta accedendo al proprio conto per fare una disposizione genuina. Il malware in quel momento ingetta tramite man in the browser quello che di fatto è, in gergo viene definito web inject kit, che non è nient'altro che un codice altamente tailored per l'applicazione che di fatto è targettata, e che non fa altro che svuoppare una transazione genuina. Quindi io mi ritrovo, mi sto loggando io vittima, all'interno del mio conto corporate ad esempio, vado a effettuare una transazione e nel momento dell'autorizzazione tipicamente entrano in questa fase, questo JavaScript ingettato va ad alterare il beneficiario. E questo quindi comporta uno swap della transazione tipicamente verso un bank account che è direttamente o indirettamente gestito dal gruppo attaccante. Qui in questa slide ho cercato un po' di visualizzare questi due mondi. Quindi vedete appunto al vostro sinistra l'account cover, per cui metodologie di attacco che come dicevo prima si basano sia su componenti di social engineering che componenti malware. E poi andremo a vedere anche più nello specifico alcuni esempi con Francesco. A parte destra abbiamo tutto il mondo degli ATS. Quindi in questo caso attacchi o metodologie di attacco che scalano molto meglio, molto più costose dal punto di vista dell'attore che si sta dietro e che si basano principalmente appunto su componenti malevole. Andando avanti, qui abbiamo cercato di visualizzare un po' quelli che sono i trend soprattutto negli ultimi due anni. E qua già iniziamo a fare un distingo su due macro categorie, per cui abbiamo in alto il mondo del corporate banking e in basso il mondo del retail. Questo perché? Perché anche storicamente sia attori che metodologie di attacco sono molto diverse nei due mondi. Per cui abbiamo il mondo corporate dove storicamente agiscono gruppi che utilizzano appunto un approccio quasi malware base. Per cui ovviamente ci sarà la parte di componente social per... Grazie. Aspettavo una birra, ma va bene uguale. Ci sarà ovviamente quindi una parte social, almeno per quanto riguarda l'inizio dell'attacco, per cui la classica email o quant'altro di phishing, ma poi da quel momento in poi risulta essere fortemente malware base, come vi dicevo. E diciamo che è una cosa che anche oggi continua ad esserci. Cioè quello che stiamo vedendo è che anche i malware workstation stanno iniziando a includere all'interno delle proprie campagne di attacco delle componenti per espandere la superficie d'attacco verso dispositivi mobile. E vedremo tra poco un esempio. Però continuano ad essere molto presenti ancora al giorno d'oggi per un motivo specifico, perché le aziende continuano principalmente a operare dalle workstation. Poi abbiamo invece nella parte bassa tutto il mondo del retail banking. Retail banking, quindi conti privati, dove di fatto storicamente esistevano campagne di attacco, dove si magari basavano anche totalmente su attacchi di phishing. E poi quello che abbiamo visto nel corso soprattutto degli ultimi due anni è l'aumento di malware mobile appunto per portare avanti queste campagne. Quindi da questo momento in poi quello che tipicamente si vede sono attacchi che sono mixed, quindi avremo componenti di social engineering e utilizzo di malware mobile. Qua abbiamo riportato anche alcuni esempi. Vedete appunto la parte di SMS stealer, che sono i malware diciamo più banali, ovvero che hanno tipicamente un compito. Quindi quello di, nel caso specifico, intercettare codici OTP in fase di autorizzazione di un pagamento, ad esempio, intercettare credenziali o dettagli della carta di credito. Dipende un po' poi dalla tipologia di attacco. Questa cosa è evoluta molto, soprattutto negli ultimi due anni, dove sono nate anche n famiglie nuove di malware, includendo al proprio interno vera e propria funzionalità di RAT. Quindi quello che anche oggi si inizia è ad utilizzare il termine on-device fraud, ovvero l'attaccante che magari effettua un account cover, non effettua l'attacco magari da un device suo, collegato tramite magari indirizzi IP, o comunque un fingerprinting di rete molto diverso dalla vittima, ma tendono a operare direttamente in remoto dal cellulare della vittima. Per finire poi, uno degli ultimi trend che stiamo vedendo nell'ultimo periodo è che viene definito DAS. DAS cosa significa? Dropper as a service. Cosa sono i dropper? Tipicamente dovete vedere che nel mondo Android la maggior parte di queste applicazioni vendono condivise, non tramite ovviamente gli store ufficiali, quindi nel caso di Google Play Store. Quello che stiamo vedendo in quest'ultimo periodo è che invece molti gruppi d'attacco stanno iniziando a industrializzare questo processo che di fatto è il processo di inserire delle applicazioni che sono genuine, ovvero riescono comunque a bypassare anche controlli di machine learning e quant'altro adottati da Google e di fatto quello che hanno è una funzionalità nascosta che poi di fatto viene attivata come finto update, è una delle metodologie che viene utilizzato per di fatto fare un update finto e tirarsi all'interno l'applicazione vera, ovvero di fatto il malware vero e proprio. Nel grafico di prima tra i nomi era citato Cerberus. Cerberus perché è stato molto importante? Di fatto è una delle famiglie malware che è emersa e ha avuto anche molta diciamo attenzione anche dal punto di vista mediatico. La cosa interessante di Cerberus è che il gruppo responsabile operava con il paradigma di malware as a service. Malware as a service cosa significa? Io costruisco il mio malware ma di fatto non vado ad utilizzarlo in maniera diretta. Piuttosto l'affitto magari a n gruppi, n affiliati che poi di fatto in maniera autonoma possono portare avanti le proprie campagne d'attacco. Cosa è successo? A un certo punto gli sviluppatori hanno deciso bene, interrompiamo il progetto. Per cui proviamo a vendere tutti i sorgenti, tutti i sorgenti sia del malware quindi del corso Android, dell'infrastruttura di controllo e vediamo cosa succede. Questo è stato quello che loro avevano in mente all'inizio. Quello che di fatto è successo è che inizialmente il codice è iniziato a circolare tra un gruppo ristetto di utenti in questo forum che utilizzavano gli sviluppatori per poi essere disponibile pubblicamente. Credo tra l'altro che sia anche disponibile su GitHub per cui chiunque può prenderlo, analizzarlo, studiarlo ma al tempo stesso quello che accade cos'è? E' che altri gruppi avendo a disposizione questo codice possono di fatto embeddarselo all'interno delle proprie campagne d'attacco. E questo è quello che è successo nel caso specifico di Cerberus. Qui riportiamo un esempio di una famiglia di banking trojan molto conosciuta che si chiama Gozzi e che tipicamente opera in ambito di corporate banking. Per cui, come dicevo prima, Gozzi ha di fatto in sé all'interno un modulo di webinject per cui tipicamente questi malware hanno un file di configurazione all'interno con gli n-target della campagna. Quindi cosa succede? Io vittima visito uno di questi siti viene ingettato un javascript all'interno della mia sessione. Bene, un esempio di una configurazione che abbiamo estratto da una campagna di Gozzi di fatto includeva questa funzione che vedete qua che si chiamava show downloaded app. Questa funzione era una funzione molto banale e richiamabile dall'esterno, dal gruppo responsabile, dagli operatori, dai fraud operator. E cosa faceva? Non faceva nient'altro che ingettare del codice HTML all'interno della sessione quindi di fatto l'utente sta visitando il sito vero della banca non è all'interno di un portale di phishing o quant'altro e compariva questo pop-up. Questo pop-up cosa faceva? Invitava l'utente di fatto a scansionare un QR code e installarsi un'applicazione all'interno del proprio device. Quindi una volta che l'utente scansionava questo QR code veniva rimandato in un finto Google Play Store creato ad hoc dagli attaccanti e che di fatto invitava il download. Ora, prima di lasciare la parola a Francesco cosa andremo a vedere? Abbiamo provato a caratterizzare questa evoluzione che stiamo vedendo nel mondo di Banking Trojan su Android nello specifico e abbiamo cercato di identificare tre macro-categorie di applicazione malevole. La prima categoria, come ho anticipato prima, è la categoria degli information stealer. Quindi malware semplici dal punto di vista di feature per cui tipicamente hanno una feature embedded che è quella di intercettare codici OTP inviati tramite SMS, intercettare credenziali o intercettare dati di carta di credito. Poi passiamo alla seconda categoria che era un po' come dicevo prima il modello Cerberos per cui sono applicazioni che mirano a ottenere in remoto un controllo totale del device infetto. Questo perché? Per evitare di, ad esempio, enrollare un nuovo dispositivo o comunque dare più indicatori in questo caso all'antifrode per identificare ok, questa sessione non mi piace perché proviene da un IP mai visto dall'utente, il device mai visto storicamente, per cui sospetta. E il terzo, la terza categoria che andremo a vedere è appunto quella dei RAT che includono al proprio terno questo modulo di ATS. Come vi dissevo prima gli attacchi di tipo ATS non sono nuovi, sono anche molto consolidate all'interno dei banking trojan moderni. Sono nuovi nel punto di vista mobile, per cui quello che stiamo iniziando a vedere è che nuove famiglie, come ad esempio Sharkbot, di cui vi parlerà Francesco tra poco, hanno iniziato ad includere questa metodologia di attacco anche all'interno di canali mobile ed è di fatto la prima volta che si vede ATS scale in questo momento. Bene, io vi ringrazio e lascio la parola a Francesco che continuerà la presentazione. Grazie. Ok, cominciamo a andare un po' in dettaglio su ognuna di queste famiglie. Partiamo dagli infostealer. Solitamente queste applicazioni sono molto banali dal momento che implementano una singola feature, ma allo stesso tempo non hanno delle metodologie di evasion come offuscation del codice, encryption delle comunicazioni e così via. Tuttavia, anche se sono molto banali come applicazioni, molto spesso, come vedete, non vengono detettate dagli antivirus. Questo perché? Perché solitamente queste applicazioni, dal momento che sono molto facili da costruire, mutano molto velocemente. Oppure utilizzano determinate metodologie come il repackaging, ovvero prendono un'applicazione legittima, alterano il codice, quindi ingettano del codice malevolo, rimpacchettano tutto e distribuiscono questa nuova applicazione. E di conseguenza trovare questo codice malevolo all'interno di un'applicazione può risultare difficile. Quali sono quindi queste informazioni a cui sono interessati gli attaccanti? Come vi ha anticipato Federico, sono SMS, carte di credito e le credenziali di login delle banche. Andiamo in dettaglio in ognuna di queste tipologie. SMS stealer. Solitamente queste applicazioni vengono deliberate tramite metodologie di social engineering, quindi phishing, smishing e così via. Questo perché? Perché la componente umana è fondamentale. Dato che questi malware non usano vulnerabilità di Android, non usano Zero Day, ma cercano di far installare quindi manualmente l'applicazione alla vittima e soprattutto devono poi accettare permessi come questo, ovvero cambiare l'applicazione di default per la gestione degli SMS in modo tale che il malware riesca a intercettare questi SMS e spararli verso un C2. Quindi queste metodologie di social engineering molto spesso servono anche quindi per persuadere l'utente a installare queste applicazioni. E da qui possiamo vedere alcune tecniche utilizzate molto spesso come l'utilizzo di icone o nomi di applicazioni di trust, di messaggistica oppure con riferimenti alle banche targeted oppure a soluzioni antivirus. Un'altra tecnica molto utilizzata è appunto il repackaging che vi ho già spiegato prima ma vedremo breve un esempio nel concreto oppure vengono utilizzati proprio quello che si chiama il fake bank operator ovvero sono i 3-tactors stessi che chiamano dopo aver recuperato il numero di cellulare delle vittime chiamano le vittime e fingendosi appunto operatori bancari sostanzialmente gli chiedono di installare queste applicazioni dopo aver ristorato un certo rapporto di trust con l'utenza. Ovviamente una volta che l'utente va a accettare questi permessi quindi va a dare al malware la possibilità di intercettare gli sms potete vedere nella prima immagine che il malware effetta una post request per mandare l'sms verso un pannello di controllo di loro amministrazione. Andiamo a vedere un caso concreto di sms stealer. In questo caso gli attaccanti che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato un'applicazione legittima open source di messaggistica chiamata QK SMS quindi il codice lo trovate su GitHub perché di fatto è un'applicazione legittima e anche sul Google Play Store trovate l'applicazione. Di fatto quello che hanno fatto gli attaccanti cosa è stato? scaricare il codice da GitHub aggiungere delle funzionalità rimpacchettare tutto e sostanzialmente deliberare queste applicazioni tramite campagne di phishing. Nell'immagine potete vedere in rosso le classi quindi il codice che hanno imbeddato all'interno dell'applicazione. Le funzionalità di questo malware erano praticamente due uno ovviamente quello di intercettare gli sms l'altra era quello di fare un hide quindi nascondere tutti gli sms che riceveva la vittima questo perché immaginate il seguente scenario l'utente sta cercando di loggarsi all'interno del sito della banca ma la banca gli chiede un two factor autenticator per proseguire il login che in teoria dovrebbe essere mandato tramite sms di conseguenza se l'utente non vede ricevere questi sms ne richiede di nuovi ovviamente questi sms in realtà stanno arrivando sul device della vittima ma vengono nascosti quindi non vengono mostrate notifiche vibrazioni o suoni e vengono in realtà spediti verso il c2 degli attaccanti di conseguenza gli attaccanti avranno più codici OTP più codici PIN che possono utilizzare per confermare più operazioni fraudolenti oppure fare un enrollment di un nuovo device un altro scenario che abbiamo studiato qualche anno fa purtroppo era finito sul Google Play Store di conseguenza quando questo accade anche utenti un po' più esperti quindi che sanno riconoscere un sito di phishing sanno che non devono scaricare un'applicazione da store non ufficiali rischiano di cadere vittima di queste tipologie di frodi perché comunque il malware proviene da una fonte trusted quindi accettata dall'utente l'applicazione di fatto era molto banale era una web view quindi semplicemente mostrava un sito di phishing all'interno di un'applicazione e come vedete l'obiettivo era rubare credenziali OTP e i dati delle carte di credito passiamo infine all'ultima tipologia di infostealer che sono malware che hanno come obiettivo quello di rubare le credenziali la tecnica consolidata e che ormai utilizzano praticamente tutti i malware negli ultimi due anni è il cosiddetto overlay attack è una tecnica che consiste nel mostrare una pagina clone sopra l'applicazione legittima ovvero in cosa consiste una volta che l'utente va a installare questo malware il malware è in grado di capire che l'utente sta cercando di aprire l'applicazione della banca che è target appunto del malware e durante la fase di apertura dell'applicazione legittima il malware mostra una pagina clone quindi identica sopra l'applicazione della banca di conseguenza se l'utente poi andrà a inserire le credenziali all'interno di questa pagina clone vengono spedite verso un C2 è molto difficile capire che si è sotto attacco overlay perché comunque la fase di sovrapposizione è praticamente contemporanea quindi difficile da notare ma di fatto come vengono fatte questi attacchi overlay cioè come sono costruiti tramite come vedete nella prima immagine delle pagine web di fatto quindi composte da codici HTML CSS e JavaScript che praticamente replicano fedelmente una pagina di login della banca questa clone viene preso in pasto dal codice del malware nella seconda immagine e poi renderizzata durante la fase di attacco se provate ad esempio durante la fase di attacco a cliccare il tasto per vedere quali sono le applicazioni in quel momento aperto da Android potete vedere appunto che in primo piano avete l'applicazione clone e dietro l'applicazione originale prima ho detto che questa è la tecnica più consolidata perché di fatto perché è molto scalabile nel senso che se il malware il threat actor ha necessità di inserire un nuovo target quindi una nuova applicazione di bank non deve modificare il codice del malware ma gli basta creare una nuova pagina clone e il tutto diciamo funziona passiamo alla seconda tipologia di banking sono i banking rat a differenza della categoria precedente quindi degli infostealer questi malware sono molto avanzati avanzati perché innanzitutto hanno molte feature quindi non fanno una sola cosa ma ne riescono a fare di diverse e inoltre implementano molte feature di evasion quindi detectano un emulatore riescono a detectare se stai utilizzando un debugger cifrano le comunicazioni tra il C2 e le applicazioni e così via qui ho riportato alcuni esempi in questo caso la famiglia di questo malware si chiama Alien che è un successore di Cerberus di cui vi ha già parlato Federico prima e nell'immagine a sinistra potete vedere la lista di sostanzialmente comandi che il malware riesce a gestire come rimuovere applicazioni quindi il malware è in grado di detectare se all'interno del device infetto è presente un antivirus e rimuoverlo oppure è in grado di rimuovere se stesso nel caso in cui capisce che è dentro una sandbox oppure fare record dell'audio e così via qui ho sottolineato una feature interessante ovvero la possibilità di rubare i codici del Google Authenticator quindi anche se avete diciamo non utilizzate gli sms come two-factor Authenticator ma un'applicazione esterna il malware è in grado lo stesso di aprire leggere i codici e utilizzare lo suo piacimento un altro esempio è Tibot un'altra famiglia piuttosto nota un malware molto potente che come potete vedere è in grado di recuperare moltissime informazioni dal device infetto come il livello di batteria la country il numero di cellulare se lo schermo è attivo oppure no o se è riuscito a prendersi determinati permessi ovviamente queste informazioni come vedete vengono poi inviate a un C2 oppure come vi dicevo questi malware adottano delle tecniche di variation Sharebot ad esempio utilizza un DGA un domain generation algorithm che sostanzialmente serve al malware per essere resiliente ad azioni di takedown cioè ovvero se questi malware devono sempre comunicare ovviamente con un C2 in modo tale che i 3-tactor gli danno istruzioni su cosa fare in un determinato momento ma il malware allo stesso tempo deve inviare delle informazioni all'attaccante per sapere cosa sta succedendo sul device della vittima quindi se autorità buttano giù il dominio quindi il server del malware comunque il malware diciamo che muore lì tramite questa feature il malware sa precisamente che può contattare una decina di domini quindi anche se vengono buttati giù due server non succede niente e inoltre questi domini vengono creati nel caso di Sharebot settimanalmente quindi 5-6 domini ogni settimana vengono creati in modo tale da essere resiliente a qualsiasi azione di takedown un altro esempio usato praticamente da quasi tutti i malware in questo caso ho riportato una famiglia di nome Oscorp piuttosto recente dell'anno scorso dove potete vedere che il codice è tutto fuscato quindi le stringhe vengono cifrate vengono utilizzati diversi algoritmi come RC4 AS e così via e anche le comunicazioni in questo caso vengono cifrate in alcuni casi vengono utilizzati anche algoritmi asimmetrici o simmetrici ma di fatto come fanno questi malware a ottenere questo pieno controllo del device quindi ottenere tutte queste informazioni o recuperare ad esempio come i codici del Google Authenticator anche in questo caso come la categoria precedente non utilizza vulnerabilità ma di fatto utilizza delle feature proprio di Android in realtà ne abusa di queste feature che sono gli accessibility service questi accessibility service per chi non li conosce sono una feature di Android messa a disposizione principalmente per utenti con disabilità quindi tramite queste feature anche utenti con disabilità riescono a interagire col device quello che hanno fatto gli attaccanti è abusarne e come vedete dall'immagine la prima cosa che il malware fa quando viene installato è mostrare un pop-up in modo ripetuto dove chiede all'utente di accettare questi permessi ovviamente una volta che vengono accettati vedete in basso quello che il malware riuscirà a fare quindi osservare le azioni fatte dall'utente ritrovare contenuto all'interno delle applicazioni qualsiasi applicazione osservare il testo scritto quindi anche in alcuni casi password o comunque dati personali come carte di credito e infine effettuare delle gesture quindi anche click swipe quindi diciamo l'obiettivo di questi malware è avere un pieno controllo del device da remoto proprio per effettuare i frodi come vi ha detto Federico a distanza ma soprattutto dal device della vittima in modo tale da essere meno detectati dalle banche ovviamente ogni famiglia di malware ha implementato affiancato agli assessibili di service anche altri protocolli o altre metodologie per avere una piena persistenza in questo caso Alien utilizzava TeamViewer quindi un tool noto legittimo di fatto ma loro lo utilizzavano per avere una persistenza maggiore all'interno del device infetto oppure Tibot che si è implementato diciamo un suo algoritmo dove sostanzialmente andava a fare screenshot ogni dopo ogni pochi secondi in modo tale da monitorare quello che l'utente faceva e recuperare informazioni interessanti come il balance degli account e così via oppure Oscorp che utilizza un protocollo noto come WebRTC utilizzato ad esempio anche da Google in stadie per avere sostanzialmente uno streaming continuo e vedere quello che l'utente faceva proprio riguardo Oscorp abbiamo riportato un caso che abbiamo analizzato di frode dove tutto è partito tramite un messaggio contenente un link di phishing dove all'utente veniva richiesto di inserire credenziali e bancare il numero di cellulare l'utente purtroppo cliccò questo link inserì questi dati e dopo qualche minuto l'operatore quindi l'attaccante chiamò la vittima fingendosi dell'antifrode della banca e per motivi sicurezza gli aveva detto di installare una nuova applicazione che sarebbe servito appunto per pulire il cellulare da malware e così via l'utente scaricò questo malware questa applicazione e di fatto gli attaccanti riuscirono a fare delle transazioni non autorizzate l'utente descrisse la cosa come se vedesse un video all'interno del proprio device ma di fatto erano gli utenti che da remoto operavano sul suo cellulare infine passiamo all'ultima tipologia di di banking di banker ovvero i banking rat con un modulo ATS di fatto sono applicazioni molto avanzate come quella dei banking rat che abbiamo appena visto però hanno di fatto un modulo aggiuntivo ovvero riescono a fare ATS che vi ha spiegato Federico quindi uno swap dell'Iban durante la fase di transazione il malware che abbiamo scoperto di recente quindi a fine 2021 che abbiamo chiamato Sharpot è in grado di fare proprio questo ovvero quando l'utente va a fare una transazione il malware agisce riesce a intercettare questa porzione di codice quindi di inserimento dell'Iban viene swappato con un Iban a mulo quindi del 3-tactor di fatto questi malware a differenza della categoria precedente sono molto custom questo perché comunque ogni fase di transazione di un'applicazione bancaria è diversa dall'altro quindi necessitano un maggiore effort per creare questi malware tuttavia il beneficio è quello di riuscire a effettuare i frodi in modo quasi del tutto automatico a differenza dei bank in RAT dove devono stare proprio gli operatori live a fare queste transazioni come ci riescono a fare ATS ovviamente sempre tramite l'abuso degli accessibili quindi come vedete nella prima immagine il malware riesce praticamente a fare uno scraping completo di quello che sta succedendo sul device più l'utilizzo di un file di configurazione quindi la seconda e terza immagine dove sostanzialmente il malware viene istruito a fare determinate azioni sulla base di quello che vede quindi ad esempio nel caso del comando inject c'è una lista di applicazioni in cui se sul device infetto è presente viene attivata ad esempio la funzionalità di attacco overlay nel caso di sniffer stessa cosa c'è una lista di applicazioni in cui viene attivato la funzionalità di keylogging oppure nel caso special ci sono delle vere proprie azioni che il malware deve fare come ad esempio l'azione di click se incontra ad esempio un ID che si chiama fingerprinting o cancel button con la stessa logica se incontra un campo chiamato IBAN il malware è in grado di capire che lì andrà a finire un IBAN e riesce a farlo swap durante la transazione un'altra tecnica piuttosto utilizzata da questi malware è l'alterazione dei valori di copy and paste quindi ad esempio si sa che l'utente molte volte copia e incolla l'IBAN perché è una stringa molto lunga oppure è il wallet di un'applicazione di criptovalute e quindi durante la fase di incolla lui swappa il valore quindi cambia il valore dell'IBAN purtroppo anche queste applicazioni così avanzate ogni tanto riescono a finire sul Google Play Store questo è un esempio di applicazione che è stata scaricata oltre 5.000 volte e di fatto era Sharebot utilizzava la tecnica che vi diceva anche Federico ovvero quella del dropper sostanzialmente gli attaccanti caricano sul Google Play Store delle applicazioni apparentemente legittime come in questo caso un antivirus che da un certo punto in poi richiederà un aggiornamento e invece di scaricare un vero aggiornamento scarica il malware quindi il core del malware ovviamente questo abuso degli accessibili ti ha creato piuttosto rumore e Google ha deciso di prendere una decisione ovvero a partire dalla versione 13 di Android verranno applicate delle restrizioni ovvero applicazioni installate manualmente verranno bloccate per motivi proprio di sicurezza ovviamente noi tutti lavoriamo nell'ambito security quindi sappiamo che ogni volta che comunque viene alzata l'asticella ogni volta che viene messa una contramisura tipicamente gli attaccanti reagiscono e cercano di bypassare queste restrizioni quindi cosa ci possiamo aspettare in un futuro a breve termine o comunque a medio termine ma sicuramente un maggiore effort da parte degli attaccanti nel cercare di caricare questi malware sempre più spesso sul Google Play Store in modo tale da bypassare completamente queste restrizioni e purtroppo questo è un trend che stiamo già osservando da circa 3-4 mesi ovvero sempre più malware di famiglie note come Charbot Tibot o Vultor stanno finendo sul Google Play Store oppure ci possiamo aspettare la creazione di nuove tipologie di malware quindi malware che non sfrutteranno più queste feature degli accessibili ma nuove metodologie oppure banker di stampo APT quindi molto custom sul target quindi sulla banca ad attaccare tentando di sfruttare anche vulnerabilità e questo è un caso che stiamo già osservando sul mondo workstation quindi malware molto verticali e quindi ci aspettiamo che prima o poi potrà traslare anche sul mondo mobile e infine chissà anche un'espansione verso un perimetro che attualmente non viene utilizzato molto dagli attaccanti ovvero nuovi malware su iOS grazie